ciao dolcette benvenuti in questo nuovo episodio di dolce flerte università castiella oggi dobbiamo cominciare il capitolo 15 che si intitola ruota panoramica emozionale non vedo l'ora di cominciare questo capitolo lo scorso episodio è finito in una maniera meravigliosa sulla spiaggia tra le braccia di castiella cioè visione più celestiale di questa secondo me non c'è quindi iniziamo subito questo nuovo capitolo vediamo un po le vacanze iniziano con un'intensa sessione di studio e sono tutti preoccupati per la tesi ma esiste un modo perfetto per distrarsi in città e arrivato il luna park sei pronto a fare un giro sulle giostre assolutamente sì se sono in compagnia di castiella ovviamente iniziamo wow 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 a parte che sono loro che saltellavano ma qui c'è la zietta che mi sta regalando cento pa i love you i love you so much ma fantastico ma tutti questi regalini che fanno dolce flerte vabbè meraviglioso iniziamo ecco qui i nostri amici che saltellano stiamo festeggiando cin cin abbiamo brindato e bevuto un sorso non riesco a crederci le vacanze stavo quasi dimenticando come ci si sente dai abbiamo comunque avuto dei weekend divertenti per spezzare un po shani si è chinata verso di me senza farsi notare e mi ha sussurrato qualcosa nell'orecchio parla per te non capisco proprio cosa tu voglia dire ok lei ride incredibile un'apparizione mi avevi detto che non saresti venuta ci siamo tutti girati nella direzione in cui guardava alex e rose sì che bello che bello ciao alex si è alzato per abbracciarla ehi voi due state bene sì stavamo per tornare a casa con leite ma mi sono detta che potevamo fare un salto qui per salutarvi un attimo che cambio la dolcetta ok ho cambiato la dolcetta così mi sembra più adatta la serata sì stavamo per tornare a casa con leite ma mi sono detta che potevamo fare un salto qui per salutarvi sedetevi c'è posto allora che progetti avete per le vacanze ancora non lo sappiamo di precise io volevo andare a new york in scrilanka o in croazia ma morgan è un vero questa festa mi spieghi come facciamo ad andarci senza soldi e avendo solo due settimane di vacanza nel bel mezzo dell'ultimo anno di università bah possiamo andarci in autostop sì ok fantastico ho sempre sognato di farlo sì vieni con noi perfetto due incoscienti al prezzo di uno bisogna dire che è un progetto fantastico a me piacerebbe davvero tantissimo poterlo realizzare è vero ma per quanto mi riguarda sarò sommersa di lavoro nelle prossime due settimane non so neanche se avrò il tempo di vedervi beh allora potremmo organizzare di nuovo una serata di studio insieme sì è vero sarebbe una buona occasione per vederci nello stesso tempo portarci avanti col lavoro inoltre quando sono con voi lavoro molto meglio sì è vero anche per me quando volete ragazzi rosalia sembrava esitante poi ha aggiunto qualcosa potremmo farlo a casa mia sei sicura rosa sì così potrei vedervi tutti sono sicura che mi darebbe la carica per studiare e quando vorresti farlo potremmo farlo subito all'inizio delle vacanze in modo da essere più tranquilli durante le due settimane successive voglio dire sempre se vi vada sì è una buona idea assolutamente mandare un messaggio agli altri per avvisarvi abbiamo continuato a parlare fino a quando la fatica ha cominciato a farsi sentire credo che sia ora che torni sono stanca morta ho bisogno di dormire almeno fino al mese prossimo vengo con te seguiamo il vostro esempio così presto e sì ma ci si rivede presto per studiare insieme non vedo loro su dai non fare quella faccia è solo l'inizio delle vacanze appunto bisogna festeggiare get the part started non so come lo faccio a reggere il suo ritmo tutti i giorni morgan non lo so neanche io ho baciato morgan ed alex e ho seguito shani rose late fuori dal bar ok in ogni caso è stato bello vedervi tutti e due non credevo che sareste venuti a dir la verità ho visto il messaggio di alexi un po tardi poi mi sono detta che poteva essere divertente uscire ho fatto bene a venire sì a proposito la tua serata spiaggia si è conclusa bene molto bene grazie di nuovo meglio così vi faccio sapere per il pomeriggio di studio tra l'altro stavo pensando ma potrebbe essere interessante se tu invitassi ambra non posso fare a meno di ripensare a quello che è successo l'ultima volta vedere nata in una situazione così difficile non l'ha certo aiutata magari è stupido da parte mia ma mi piacerebbe far partecipare ambra le nostre riunioni di gruppo per aiutarla in un modo in un altro ah già non ci avevo pensato è una buona idea va bene ok perfetto bene buona serata a voi due sì buona serata e grazie di nuovo per l'invito a casa tua non c'è di che io e shani ci siamo incamminate nella nostra direzione è stata una bella serata apprezzo molto alexi e morgan mi fanno ridere sì sono due fenomeni era salia sembrava serena mi ha fatto piacere vederla si procede per gradi sono felice di vedere che si riprende poco a poco inizi a conoscerli bene a forza di venire in giro con me sì mi hanno accettata e mi fa molto piacere chi potrebbe non accertarti shani dai posso assicurartelo un mucchio di gente senti mi chiedevo perché tieni così tanto a far venire ambra a questo sì io con lei sinceramente voglio confidarmi perché mi fido ciecamente di shani ho scoperto che è anoressica e vorrei aiutarla cosa sì io scusa non volevo farti una domanda indiscreta no mi è sfuggito ma è così ho scoperto che non sta bene e vorrei starle vicina e quindi farla partecipare alle nostre uscite non so che altro fare per aiutarla è l'unico modo visto che lei rifiuta di riconoscere la gravità della sua situazione le tue intenzioni sono degne di lode tu ammiro la tua determinazione ad aiutare assolutamente tutti cerco solo di fare la cosa giusta credo di non aver mai parlato con lei si vedrà magari non vorrà venire a dire la verità non ne so niente andiamo qui adesso che ci penso ho riguardato i miei disegni e sai per il progetto del professor zaidi ah sì allora hai deciso di farlo no è troppo difficile non sono sicura di volere che le mie opere siano esposte ok ma vorrei comunque ringraziarti per avermi incoraggiata in questo senso sei stata davvero premurosa e gentile ma non posso farlo va bene capisco ok su ti auguro una buonanotte buonanotte sani e vabbè peccato andiamo in camera glielina è già letto con gli auricolari e il computer sulle ginocchia mi sono fatto un tè con il piccolo bollitore portatile che mi ha regalato mia madre e mi sono messa a letto per guardare l'ultima stagione di americans next drag queen e shani che mi ha parlato di questo programma ne sembrava molto appassionata quindi volevo a tutti i costi vedere di persona di cosa si trattasse il mio cellulare ha vibrato ciao a tutti sareste d'accordo per una sessione di studio da me domenica pomeriggio rosa non ha perso tempo per l'invito è bello che l'abbia proposto ci saranno tranquillità tè caffè cookie e biscottini rispondetemi presto baci ho subito risposto confermando la mia presenza alla fine mi sono addormentata davanti ad un episodio il giorno dopo ho approfittato della prima mattinata di vacanza per dormire fino a tardi poi sono rimasta in pigiama a guardare varie cose sul computer tra serie videogiochi e social di sicuro la giornata meno produttiva dell'anno ma ogni tanto fa bene è vero che mi sarebbe piaciuto vedere castiel ma aveva una riunione importante per il prossimo album è la domenica della sessione di studio e devo dire che sono piuttosto entusiasta all'idea di vedere gli altri un po meno motivata per quanto riguarda lo studio ma vabbè vederli lavorare dovrebbe spronare anche me ho preso solo il materiale per la tesi uh chi è e shani si aspetta in cortile non so dove ho subito risposto non ti muovere arrivo ok andiamo da ciao allora oh ma salve alla fine ho incontrato alex e morgan perfetto non eri poi così persa allora è strano è come se uscissimo tutti insieme per una serata non sembra affatto un pomeriggio di studio magari è così che andrà a finire chissà ai 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 ho come l'impressione che l'atmosfera non resterà seria a lungo al massimo possiamo sempre legare alexi alla sedia e credi che basterà farmi stare tranquillo no conoscendolo no va bene meno male che c'è alexi se no bisognerebbe inventarlo andiamo eccoci qui abbiamo suonato e rosalia tutta allegra ci ha detto di salire salve su entrate potete lasciare le vostre cose in camera in fondo al corridoio a sinistra siamo i primi ad arrivare sì un delicato profumo di cannelle e cucchi caldi aleggia nell'aria oh mio dio rosalia sei tu che hai fatto tutto questo rosalia aveva disposto dei piattini pieni di ogni sorta di dolci un po dappertutto nell'appartamento in cucina sulla tavola bassa del salone ha messo una scrivania persino sul mezza mezzanino i dolci della nostra padrona di casa hanno le forme e i colori più svariati sì adoro cucinare mi libera la testa ma ho paurato di non averne fatti abbastanza ci sono stelline al limone biscotti alla nocciola ma fine al lampone cucchi al macadamia e cioccolato bianco crincola la rose dei piccoli fondenta alla cannella e al caramello ma che è una pasticcera non abbastanza sul serio rosalia usciremo tutti di qui con una decina di chili in più ce ne sono assolutamente dappertutto è favoloso sono troppo belli muoio dalla voglia di assaggiarli tutti serviti pure shani shani ha posato le sue cose sulla tavola bassa del salone e ha subito messo in bocca una stellina al limone con un mugulio di piacere sono reazioni come questa che fanno venire voglia di cucinare più spesso grazie shani devo riconoscere rosa che wow ti sei davvero data molto da fare grazie mille se fai così ogni volta saremo costretti a fare tutte le nostre sessioni di studio da te late non c'è no è andato a vedere la casa con un architetto davvero fantastico allora i lavori procedono già sembra di sì ci siamo seduti qualcuno sul divano altri al tavolo della cucina rosa si è seduta accanto a me e ha posato sul tavolo un enorme enciclopedia dal titolo neuroscienza e patologia hanno risposto tutti al tuo sms vengono tutti quanti sì dovrebbero essere qui a momenti ognuno ha cominciato a leggere le sue schede in silenzio ma dieci minuti dopo il campanello ha suonato rosalia ha lasciato la porta spalancata per lasciare entrare il nuovo arrivato ciao oh ian che odorino delizioso hai ancora fatto follia e rosa ho solo cucinato un po niente di speciale smetti di sminuirti hai lavorato come una matta si potrebbe dire che hai cucinato per un reggimento l'ho fatto con piacere è una cosa che adoro ho salutato ian e priglia e abbiamo tutti cominciato ad assaggiare dolci di rosa prima ancora di aver preso posto ciao a tutti scusate il ritardo oh c'è anche ambra il portone era aperto ma allora sono entrata ma certo non c'è problema hai fatto bene ad entrare vieni e no no scusate ma questa non me l'aspettavo proprio che sorpresa è fantastico in ogni caso bastava seguire l'odore dei dolci per trovare la strada che profumo delizioso rosalia oh grazie smettete di farmi complimenti non li avete neanche assaggiati magari sono immangiabili no sono buonissimi da morire rosa grazie non mi aspettavo proprio di vedere castielle a chi lo dici si è avvicinato a me con un sorrisetto eronico sulle labbra cosa ci fai qui vengo per il tuo stesso motivo sei venuto per studiare qui non ci sono strumenti di musica e gli altri hanno bisogno di silenzio sai bene che l'indirizzo di musicologia non si basa solo sulla pratica c'è anche molta teoria ci sono le lezioni e anch'io devo fare una tesi comunque sono contenta di vederti molto contenta mi sono avvicinata anch'io per baciarlo senza troppo dare nell'occhio la prego signorina cerchi di restare seria sono qui per lavorare ha posato le sue cose accanto a me guardandosi intorno ambra si è seduta di fronte a me ciao stai bene sì l'invito di rosa mi ha sorpresa ma sono davvero contenta di essere venuta almeno per una volta non mi ritroverò a studiare da sola in una camera d'albergo continui a dormire in albergo beh ecco da mio fratello è un po' troppo piccolo per noi due quindi sì ci costerà un mucchio di soldi non proprio a dire la verità il proprietario dell'albergo in cui sono è un amico mica male e quando sono in viaggio faccio in modo che la camera sia a carico dell'agenzia di modelle quindi per il momento me la cavo una vita da sogno dipende per chi ma a me piace davvero poco a poco le conversazioni si sono fermate e abbiamo lavorato seriamente fino a quando iniziato a fare buio lavoriamo insieme già da varie ore alcuni cominciano a parlare sottovoce ad un certo punto tutti chiudono i libri e quaderni e rosa propone per l'ennesima volta un po di te tutti si uniscono a noi intorno al tavolo della cucina la mano di castiella è posata sulla mia coscia sotto il tavolo non so se se ne accorge ma ogni volta che parla con qualcuno esercita una pressione sulla mia gamba e sono così concentrata su questo semplice gesto che non riesco a seguire le conversazioni intorno a noi ad un certo punto rosalia ha messo delle pizze in forno in ogni caso rosa grazie per l'accoglienza eccezionale ma non è niente solo qualche dolcino e delle pizze credo che la maggior parte di noi sia incapace di fare quello che hai fatto tu sia per la qualità che per la quantità meriti quindi tutti i nostri ringraziamenti tra l'altro è da un po che non ti si vedeva che fine hai fatto ah io era sommersa di lavoro sì io beh ecco sapete com'è l'ultimo anno di università lo sapete anche voi sì sappiamo benissimo cosa significa le conversazioni sono riprese poco a poco abbiamo mangiato le pizze e mi sono servite altre tre volte ovviamente non ho potuto fare a meno di notare che ambra non ha preso neanche una fetta no dai ambra bene si sta facendo tardi è ora di andare tutti scioccati perché l'ha detto lui proprio da lui non ce l'aspettavamo sogno o l'hai detto tu il tipo che dobbiamo trascinare via dalle serate alle sei del mattino so essere ragionevole e poi abbiamo passato tutto il pomeriggio da rosa sono sicuro che anche lei ha bisogno di un po di riposo oh no no tutto a posto alexi ha baciato rosa sulla guancia sono le due del mattino è solo che mi preoccupo per i miei amici che dolce vederti così ma durante le vacanze potremmo uscire va bene lavorare ed essere seri ma potremmo anche approfittarne per vederci diversamente no non so se amate questo genere di cose ma ci sarà il luna park in città a partire da mercoledì potremmo ritrovarci lì oh sì è una buona idea ed un sacco di tempo che non vado a luna park perché no potrebbe essere divertente non ti entusiasma molto ambra dai vieni ci divertiremo diciamo che sono piuttosto impegnata questa settimana le vacanze non sono mai completamente delle vacanze per me appunto per questo potrebbe essere l'occasione per distrarti un po non è niente una sola serata visto come insisti per farmi venire ok accetto sarebbe un peccato perdere l'occasione di uscire insieme non ne avremmo molte soprattutto quest'anno hai ragione io non lo so quando sarà il momento vi dirò se me la sento di venire o no mi sembra già di sentire l'odore di ciurro fritti e di zucchero filato alla violetta sì sempre fissato col cibo a quanto vedo fissato porto sempre qualcosa da mangiare in camera figurati che una volta l'ho sorpreso a mangiare un pollo al curry e alla noce di cocco nel mezzo della notte si vede che è coreano cosa sul serio avevo studiato fino alle 4 del mattino avevo fame ci siamo messi tutti a ridere iniziando ad alzarci e a prendere le nostre cose mi sono girata verso castielle senza farmi notare e tu verrai un giro in un luna park pieno zeppo di gente già sembra proprio una buona idea ma no dai su dai chi se ne importa basta che ignoriamo le fan facile dirlo facile farlo mordo chiunque oserà avvicinarsi ti metterebbero sicuramente in prigione ma cosa pagherei per vederlo scusate sempre intrometto ma sono sicura che con tutta la gente che ci sarà mescolato tra la folla e circondato da un gruppo di otto persone nessun fan verrà a chiederti l'autografo castiella sembri molto sicura di te per qualcuno che non si è mai fatto inseguire da un gruppo di adolescenti scatenate è vero abbiamo messo fine alle conversazioni abbiamo aiutato rosa a riordinare la cucina e il resto dell'appartamento dopo esserci abbracciati per salutarci siamo tutti usciti di buon umore dall'appartamento di rosalia e ok ragazza allora io mi fermo qui con questo episodio che mi è piaciuto tantissimo l'ho trovato davvero adorabile e l'arrivo di castielle è stata una vera sorpresa che mi ha lasciato senza parole è fantastico non vedo l'ora di vedere il pomeriggio o la serata che passeremo a luna park secondo me sarà meravigliosa e l'illustrazione mi incuriosisce veramente tanto non vedo l'ora di scoprirla spero che questo episodio vi sia piaciuto se così vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e a farmi sapere cosa ne pensate giù nei commenti io vi ringrazio per aver guardato il video e spero di rivedervi in un prossimo gameplay ciao